L'AIRC arriva all'interno della struttura penitenziaria di Gela per lasciare quale messaggio? È la prima volta che entriamo in una struttura del genere e con noi l'oncologo volontario dell'AIRC, il dottor Dagati, verrà a portare un programma di educazione alla salute sempre adeguato a questa struttura e agli ospiti e ai detenuti della casa circondariale. È molto importante, prevenzione significa in tutte le sfere a 360 gradi. Lasciare un messaggio di prevenzione ai detenuti rappresenta anche un momento di riflessione per loro, è importante. Per la prima volta che entriamo in una casa circondariale nel progetto AIRC nelle scuole si sposta nelle carceri proprio per vedere e sentire quali sono i discorsi e gli effetti della prevenzione. Prevenzione tratteremo oggi sull'alcolismo, sul tabaggismo, ma soprattutto la corretta alimentazione. Nel senso che una volta usciti di qua potrebbero avviare dei percorsi virtuosi di vita, quindi conoscendo quali possono essere le conseguenze di abuso delle sostanze che lei prima menzionava e l'importanza della prevenzione. Sì, è importante la prevenzione anche per l'uso e come diceva lei l'abuso delle sostanze, come per esempio le sostanze stupefacenti, dell'alcol e soprattutto del fumo di sigaretta. Si vede che la maggior parte dei tumori, l'incidenza dei tumori, è data dall'uso eccessivo di sigarette e di alcol. Ma è importante soprattutto la corretta alimentazione, che se ne parla ma se ne parla poco e non in maniera corretta dell'alimentazione. Quindi cerchiamo e speriamo di dare questo messaggio grazie all'AIRC che mi ha dato questa opportunità. Comandante, arriva un importante messaggio di prevenzione anche all'interno della casa circondariale. Con quali ricadute secondo lei? Ricadute positive in termini di sicurezza, ricadute positive in termini di immediatezza negli interventi di salute e soprattutto il riconoscimento di un momento storico molto particolare in cui peraltro la sanità penitenziaria sta passando alla sanità pubblica sulla base di un presupposto costituzionale che alla salute va garantita a tutti. Il nostro compito è promuovere tutto ciò che è intorno alla persona, affinché la persona poi possa andare in famiglia e anche lì continuare a buttare il germe della prevenzione. Prevenzione non solo nel campo della salute, prevenzione anche nel campo della legalità, prevenzione nel campo dell'educazione, prevenzione a tutto tono, nel campo anche del saper vivere e utilizzare bene la cosa pubblica. Quindi dare questo senso di come le cose devono essere fatte. Come hanno accolto i detenuti l'iniziativa? Positivamente. Si parla della salute, si parla di prevenzione per cui per loro è importantissimo avere la possibilità di interloquire con delle associazioni importanti come l'AIRC su temi sensibili quali l'educazione alla salute. In particolar modo, particolarmente importante è stata la ricaduta sul mondo penitenziario, cioè come tenere uno stile di vita corretto all'interno delle mura penitenziarie.